Nei giorni scorsi il vice sindaco e assessore all'urbanistica di Fano insieme ai dirigenti e ai tecnici hanno fatto visita al cantiere nell'area dell'ex mulino Albani per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori sia della parte edilizia che delle opere di urbanizzazione. Questa mattina invece lungo la statale, nella zona della caserma dei Carabinieri e dove a distanza di qualche mese aprirà un nuovo centro commerciale, lavori in corso per la realizzazione di una nuova rotatoria che collegherà in sicurezza via Carlo Pisacane con via Vittorio Veneto, alleggerendo così il traffico lungo via Ruggiro Mariotti e le vie parallele. Iniziano questi importanti lavori che servono per realizzare quello che mancava di questa rotatoria alle mie spalle che appunto sorgerà nell'innesto tra la via Carlo Pisacane vicino alla caserma dei Carabinieri con via Viale Vittorio Veneto che è la via che passa di fronte all'ospedale, quindi sono tutte e due arterie molto importanti, quindi qualche giorno di pazienza per i cittadini fanesi che però avranno la direzione nord-sud diciamo libera, rallentata ma libera ed è impossibile scendere da Viale Vittorio Veneto e mettersi nella statale finché ci saranno questi lavori. Ci sono delle deviazioni su via Giulini, su via Mariotti, per cui insomma qualche disagio ci sarà ma alla fine avremo una rotatoria importantissima che risolverà un importante nodo di traffico nella nostra città perché questo incrocio a T era molto pericoloso. L'accordo tra il comune di Fano e la proprietà prevede la realizzazione anche di una serie di interventi come il potenziamento del tratto di acquedotto da Viale Vittorio Veneto su via Carlo Pisacane, una nuova illuminazione pubblica LED, un impianto di smaltimento delle acque meteoriche e un occhio anche per i ciclisti, i pedoni e gli automobilisti. Si sta realizzando a fianco della rotatoria una pista ciclabile molto larga che sarà usata ovviamente in forma promiscua anche dai pedoni e si realizzano grazie alla realizzazione di un supermercato nell'area dell'ex Molino Albani, anche 140 circa posti auto che serviranno per tutti, quindi sono d'uso pubblico e che saranno credo e spero trovati molto utili da tutti i cittadini fanesi. Quindi questa parte di città cambia volto, finalmente una rotatoria risolve i problemi di viabilità di traffico, siamo molto contenti perché attraverso questa realizzazione e attraverso la convenzione che il comune di Fano ha firmato con l'impresa che realizza il supermercato abbiamo ottenuto grandi vantaggi anche per la collettività.